Il Castel Mauro cede in casa, lo fa all'esordio davanti al proprio pubblico con una squadra tutta rinnovata. Nella seconda giornata della Coppa Italia regionale la formazione basso-munisana soccombe al più quotato sesto campano che si impone con una quaterna. Ma alla fine il risultato va bene, lo stesso per il Castel Mauro che porta a casa comunque una buona mola di gioco. Soprattutto i tanti calci d'angolo, addirittura nove contro uno solo battuto dal sesto campano. Pronte via le squadre si studiano il sesto, ovviamente è molto pericoloso al quindicesimo. Ci prova subito Capaccione, ben impeccato da Pinchera. La palla che si stampa sul palo e torna incredibilmente sul rettangolo di gioco al diciannovesimo. Paolucci direttamente da angolo del Castel Mauro trova la parte alta della traversa con la sfera che poi si spegne in fallo laterale. Venticinquesimo la partita si sblocca, disimpegno errato da parte di Montrone. Arriva Di Gregorio che piazza il diagonale vincente per il vantaggio al venticinquesimo firmato dalla formazione. Pentra ventottesima macina gioco, il sesto che becca il calcio di rigore. Dattoli va a franare su Capaccione, becca tra l'altro il giallo. È l'unico giallo di una partita correttissima in campo. Capaccione è tornato alla casa madre al sesto campano. Trova il gol del 2-0, quello della sicurezza al minuto numero 28. Al 32esimo ci prova Bracone, soltanto un lampo nel deserto del Castel Mauro che negli ultimi 16 metri è venuto meno. E qui c'è l'Euro goal, il grandissimo goal firmato da Di Gregorio su calcio di punizione. È una setta incredibile su cui sedile nulla può. 3-0 e così finisce anche il primo tempo. Ecco le immagini montate da Alessandro Nardella. Siamo nella ripresa. Più scialba la ripresa con i cambi che rivoluzionano. Un intero confronto all'ottavo Capaccione a rientrare la sua conclusione con la palla abbondantemente alta sulla traversa. La partita però la fa il Castel Mauro nel secondo tempo. Si avvicina di più, tra l'altro sottoporta. Qui un tiro di Bracone con il portiere russo che si deve distendere per deviare la sfera in calcio d'angolo. 38esimo ancora da angolo. Il pallone arriva in area di rigore. Russo va a fermare l'iniziativa di Ruffini. 34esimo cambio. Riesce a trovare il gol del 4-0. Inventandosi un tiraccio dal limite dell'area di rigore con l'esterno del piede destro per il definitivo 4-0. Nel finale il Castel Mauro, mai d'uomo, cerca anche il gol della bandiera con la conclusione da parte di Matassa. Con il pallone, un tiro cross quello di Matassa. Con il pallone che sorvola la linea di porta e si spegne sul fondo. Vince il sesto che si impone per 4-0 sul Castel Mauro.